GF VIP 7, Daniele Dal Moro su tutte le furie Oriana Marzoli, tu con me non ci parli più. Nelle ultime ore Martina Nasoni e Oriana Marzoli all'interno della casa del GF VIP 7 si sono confrontate e il loro argomento principale di conversazione è stato ancora una volta Daniele Dal Moro. L'influencer venezuelana si è aperta con l'ex fidanzata di Daniele e le ha svelato i motivi per cui inizialmente si era avvicinata ad Antonino. Nonostante Daniele fosse sempre stato la sua prima scelta. Martina allora ha dato alla sua coinquilina qualche consiglio per approcciarsi al meglio a Daniele. Oriana allora ha concluso ammettendo di essere davvero presa da Daniele e di voler far proseguire questa conoscenza anche fuori dalla casa, io non voglio che questo si fermi qua. Voglio che vada oltre fuori perché mi piace veramente questo strunz.